Libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un mosfone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Amici telespettatori di Telenuova, ben ritrovati. Parte da oggi un nuovo appuntamento, un appuntamento che ci accompagnerà per svariate settimane in cui parleremo della città di Pagani, ma non come, insomma, parliamo spesso della città di Pagani, non come facciamo solitamente, ma facendo delle riflessioni, delle riflessioni attraverso delle immagini che vi mostreremo, cercando di capire che cosa si può fare, e si deve fare per il rinnovamento della città di Sant'Alfonso. Lo faremo con questa trasmissione, progetto Civis che accompagnerà la candidatura a sindaco a Pagani del dottore Nello Gaito, che ho il piacere di avere nei nostri studi. Salve a voi tutti. Allora, ben trovato. La sua lista, lista insieme, la sua scelta di entrare in campo per queste elezioni amministrative della città di Pagani, supportato da altre liste, mi viene subito spontaneo da chiederle il perché, anche se avremo modo di parlarne tante volte, prima di andare nell'oggetto della trasmissione, progetto Civis, quindi già la parola vi fa capire che avremo modo di parlare della situazione civica che purtroppo si è perso un po' di vista negli anni qui a Pagani, soprattutto negli ultimi mesi. Ecco perché la scelta di scendere in campo, dottore? Diciamo questo e diciamolo subito. Io sono un cittadino paganese, giovane, che studia al liceo scientifico di Pagani e che all'indomani della laurea poteva decidere di diventare lavoratore dipendente in un'altra regione, poteva scegliere di svolgere la propria professione su un territorio diverso da quello che era il territorio della città di Pagani e invece per scelta di vita ha deciso di vivere, di lavorare e di far crescere la propria famiglia a Pagani. Quindi è un forte senso di appartenenza a quello che è il territorio. Tuttavia, in questo momento di grande difficoltà è sempre stato forte l'impegno e il desiderio di poter scrivere o di poter proporre per la città dove io vivo un progetto, un progetto civico. Ecco perché il nome della rubrica che ci accompagnerà per queste cinque puntate dove andremo ad illustrare quelle che sono le nostre proposizioni e lo vogliamo fare attraverso l'aiuto e l'ausilio delle immagini che possono ben rappresentare in modo chiaro, perché questa sarà la nostra caratteristica, noi in modo chiaro vogliamo rappresentare quelle che sono le nostre proposizioni. Interrogandoci, ponendoci delle domande perché non tutto è scritto. Tutto invece deve essere il frutto della condivisione. Di quelle la politica è la scelta utile per soddisfare il bisogno, i bisogni di un cittadino. La politica deve essere servizio per la comunità. E questo è il termine di cui noi ci dobbiamo riappropriare. E se non ascoltiamo le persone, se non ascoltiamo quali sono i problemi che vivono o che vive la città, sicuramente non possiamo dare delle risposte. O non daremo le risposte che queste persone si attentano. Perfetto, io direi di cominciare subito allora dottore, perché credo che entrando nel vivo lei mi sta riprendendo un po' anche le parole che tanto hanno fatto discutere in questi giorni che Papa Francesco ha rimandato insomma alla classe dirigente politica italiana e non solo, più in generale a tutta la classe dirigente italiana rispetto all'importanza dell'attenzione verso il bene comune e non il bene proprio. Insomma, quindi mi fa piacere che lei abbia messo i puntini su lei senza che ci fosse stata una domanda specifica. Vogliamo cominciare? Cominciamo con commentare la prima foto. Vediamola insieme. Allora, dove siamo qui e che cosa era successo a quest'albero in questa foto che insomma è emblematica? I cittadini paganesi sanno che il pino è il simbolo della città di Pagani. In questa occasione questa foto racconta quando questo pino per un evento atmosferico ha subito un danno. Questo pino che rappresenta la città di Pagani rappresenta il simbolo della città di Pagani metaforicamente può anche rappresentare ecco un fulmine al ciel sereno che crea un momento di difficoltà alla città. È il simbolo. È un ramo spezzato insomma. Perfetto, un ramo spezzato. Ma quello su cui amo sottoporre o riflettere e quindi vorrei sottoporlo all'attenzione di chi ci sta guardando è questo. Oggi quel pino è stato abbattuto rimane una parte del pino rimane un tronco intorno al pino sono stati messi dei salici piangenti e certo quello non è un progetto di un'aiola e poi dico ma se quello era il simbolo del nostro comune se quello era il simbolo del nostro municipio era possibile progettare un qualcosa di diverso? Era possibile pensare di sostituirlo e se non era possibile era possibile fare un qualcosa di diverso che non era quello di mettere cinque piante cinque salici piangenti che non hanno e non danno nemmeno il senso di un'aiola o di una villa è possibile fare un qualcosa di diverso o progettare qualcosa di diverso? Seconda foto qui siamo emblematica anche questa foto ovviamente voi avete scelto con il progetto Civis con la sua lista insieme con Nello Gaito siamo davanti all'ufficio postale e purtroppo siamo davanti alla quotidianità perché è quello che succede praticamente tutti i giorni